Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sul luogo della tragedia, solo pochi istanti per non intralciare il lavoro dei soccorritori. Poi verso la prefettura per un vertice con forza dell'ordine e istituzioni all'opera da questa mattina, cui ha preso parte il presidente della regione Calabria, Occhiuto. Vanno scongiurate le partenze. Quando saremo riusciti ad affermare con forza questo principio e quello che ne deriva in tutte le direzioni, vedrete che queste tragedie e queste situazioni si limiteranno nel luogo. E' un messaggio etico, ha detto il ministro, che dobbiamo mandare al mondo, non si possono esporre esseri umani a pericoli come questo. E' proprio la precarietà con cui è stata organizzata questa attraversata che si è rivelata tragicamente determinante. Il ministro ha chiarito che non è stato possibile soccorrere l'imbarcazione avvistata la sera prima da Frontex, perché si erano persi i contatti e poi per il mare forza 7, ma ora, ha detto, non è il momento delle polemiche. Una grande tragedia sulla quale sarebbe molto bello che tutti ci fermassimo a riflettere.